buongiorno a tutti oggi vi parlo del dji air 2s bene oggi vi parlo del dji air 2s che è un drone lo definirei semiprofessionale in grado di fare delle bellissime riprese video addirittura 5.7k e che si può trovare attualmente su subito.it o altri siti ebay eccetera usato a dei prezzi molto molto vantaggiosi state che questo è un drone costava sui 1400 euro circa ed ora si può trovare usato a circa metà del prezzo 650 700 euro se date un'occhiata in questo momento su subito.it io l'ho acquistato appunto usato questa è la versione fly more combo che prevede la batteria in dotazione col drone il radiocomando standard ma anche due batterie ausiliarie ora vi faccio vedere un po il contenuto della scatola bene partiamo col dire che nel mio caso sono stato veramente tanto fortunato perché il drone mi è arrivato con la scatola originale nonostante fosse usato e con tutti i suoi kit originali inclusi nel prezzo che come vi dicevo prima era di circa 700 euro beh cosa trovate all'interno della confezione una serie di eliche di scorta nel mio caso ce ne erano addirittura sei il caricatore che vedete qua cioè l'alimentatore correlativo caricatore per le tre batterie poi in questa custodia che non vi so dire se è integrato no penso di no quindi l'aveva comprato il precedente acquirente il drone che ora lo tiriamo fuori eccolo qua il le due batterie ausiliari di cui vi parlavo prima il radiocomando e anche attenzione un kit di filtri dj ai è molto molto utili per poter fare delle bellissime riprese in condizioni di elevata illuminazione vi faccio vedere brevemente il drone questa ovviamente è una custodia di protezione in gomma piuma che si può togliere e beh l'air 2s per chi non conoscesse è un drone attualmente non ancora marcato c1 ma si pensa lo diventi lo possa diventare presto e quindi potrà usufruire di tutta una serie di vantaggi tra cui quello di volare in categoria a1 beh diciamo che comunque è un drone di dimensioni e peso superiore al dj ai mini 4 pro di cui ho parlato nel video precedente pesa infatti circa 600 grammi e però è un drone molto molto stabile ha un ottimo durata della batteria superiore ai 30 minuti e come dicevo prima consentì fare dei video di altissima qualità a mio avviso migliore come qualità di video durante il giorno e nelle ore serali e mentre la notte il software è un po meno recente rispetto a quello del dj ai mini 4 pro e quindi l'illuminazione notturna è meglio nel mini 4 pro una cosa interessante da sapere è che questo drone nonostante non sia più insomma nuovo dj ai da la possibilità di assicurarlo con la dj che refresh io l'ho appena fatto cioè sapete che dovete fare un video di verifica no quando il drone usato per garantire che nel momento in cui voi andate a applicare l'assicurazione il drone sia perfettamente funzionante quindi quello che occorre fare è semplicemente registrare un video seguendo le istruzioni che trovate sul sito della dj ai nella pagina della k refresh facendo vedere le funzionalità del della videocamera del gimbal e diciamo entrando all'interno delle opzioni del radiocomando facendo vedere che è aggiornato all'ultimo stadio e con questa con questo video che si poi può caricare direttamente sul sito della dj ai la dj ai vi darà l'ok per attivare l'acquisto e poi anche l'implementazione della k refresh sulla r2s io l'ho appena fatto come dicevo e così sono anche un po più tranquillo perché qualora dovesse succedere di diciamo mandare il drone a contro un ostacolo oppure il drone cade precipita eccetera siete coperti dall'assicurazione e dj ai nell'arco di massimo tre giorni vi fa avere indietro il drone nuovo o un ricondizionato questo è molto molto interessante bene mi auguro che il video i contenuti che vi ho presentato oggi siano di vostro siano stati di vostro interesse e vi saluto chiedendovi un like grazie a tutti